Buongiorno, ciao a tutti! Eccoci qui! Siamo all'inizio del quarto giorno e siamo venuti a fare una gita di esplorazione ad Assisi. Siamo davanti alla chiesa di Santa Chiara ed ecco tutto il gruppo. Ecco, due sono da questa parte. Qui c'è Manuela che si gira dall'altra parte, fa finta di non essere qui. Le altre sono sparite ma saranno qui a breve. Oggi siamo, questa mattina siamo qui, ci siamo svegliate molto presto per poter venire ad Assisi a sentire l'energia di questo magico luogo. Chissà che non vengano fuori dei bellissimi lavori oggi come è accaduto ieri. Intanto vi auguriamo una bellissima giornata e a presto. Ragazze, salutate! Ciao a tutti! Ciao a tutti!